Se stai cercando una villetta ad angolo con giardino, con tre camere da letto, due bagni, garage, magari anche recente, con pannelli fotovoltaici e 1700 euro all'anno dall'Enel per l'energia prodotta, beh, rimani con me perché non te ne pentirai. Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questa villetta in vendita. Siamo in via San Giorgi a Santa Lucia e qui si trova questa villetta ad angolo di recente costruzione con garage e giardino privato. Dove mi trovo ora? Con sala, cucina, bagno finestrato con box doccia al piano terra, tre camere da letto, bagno finestrato con vasca idromassaggio al piano primo e un disimpegno che può essere utilizzato tranquillamente come studio, zona relax o addirittura si può creare la quarta camera da letto. Grazie a tutti. 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 Al primo piano troviamo le tre camere da letto, il bagno finestrato con vasca idromassaggio e questo ambiente disimpegno che può essere tranquillamente uno studio o sala musica come viene utilizzato ora oppure perché no anche creare una quarta camera da letto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita.